Il Signore ci dice che il bene e il male non si possono identificare in determinati gruppi umani perché siamo tutti peccatori e bisogna preferire una chiesa che si sporca le mani, lavando i panni dei suoi figli a una chiesa di puri, che pretende di giudicare prima del tempo chi sta nel regno di Dio e chi no. Lo ha sottolineato Papa Francesco prima della preghiera dell'Angelus in piazza San Pietro, commentando una delle tre parabole proposte dal Vangelo di questa domenica, quella del grano buono e della zizzania. Il padrone del campo chiede di non strappare subito la zizzania per non rischiare di sradicare anche il grano e Gesù ci dice che in questo mondo bene e male sono così intrecciati che è impossibile separarli. Solo Dio lo farà nel giudizio finale. Nel tempo presente quello della libertà dei cristiani, ha spiegato il Papa, serve discernimento unendo decisione e pazienza. La decisione è quella di voler essere buon grano, tutti ne vogliamo, con tutte le proprie forze e quindi prendere le distanze dal maligno e dalle sue seduzioni. La pazienza significa preferire la Chiesa, una Chiesa che lievito nella pasta, che non teme di sporcarsi le mani lavando i panni dei suoi figli, piuttosto che una Chiesa di puri, che pretende di giudicare prima del tempo chi sta nel regno di Dio e chi no. Non si può dividere il mondo in buoni e cattivi, ha proseguito Francesco, perché la linea di confine tra il bene e il male passa nel cuore di ogni persona. Siamo tutti peccatori. Gesù ci ha dato la confessione perché abbiamo sempre bisogno di essere perdonati dai nostri peccati. Guardare sempre e soltanto il male che sta fuori di noi significa non voler riconoscere il peccato che c'è anche in noi. E poi Gesù ci insegna a guardare la realtà con speranza, con i tempi di Dio, perché ciò che era zizzania o sembrava zizzania può diventare un prodotto buono. È la realtà della conversione.